Caltacqua ha comunicato che a causa di un guasto lungo l'adduttore San Leo gestito da Siciliacque, quest'ultima non ha fornito acqua ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo a Gela. Caltacqua è stata quindi costretta a interrompere la distribuzione idrica prevista nelle zone di Caposoprano Alto e Basso, San Giacomo Alto e Basso, Fondo Iozza, Scavone Alto e Basso, Marchitello e Manfria. In attesa che Siciliacque fornisca ulteriori informazioni relative al guasto e ai di ripristino delle forniture, Caltacqua garantirà l'approvvigionamento idrico alle utenze sensibili e fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla distribuzione attraverso gli organi di stampa e il proprio sito istituzionale.